Fabri, Fibra, Nina Zilli, Paola Turce e Gabri Ponte sono solo alcuni degli artisti che parteciperanno agli MTV Awards 2017, il grande evento musicale fissato per il 27 maggio in Piazza del Popolo a Roma. Grazie al suo tormentone occidentale Iscarma e il suo enorme successo post Sanremo, è Francesco Gabbani ad aggiudicarsi l'onore di presentare la manifestazione e per l'occasione salirà sul palco anche in qualità di performer, autoannunciandosi come ci confida in conferenza stampa. Emozionato sì, un po' sì, è normale che io lo sia, ma credo che le emozioni faccia parte in generale del fatto di salire su un palco, questa è una circostanza che mi vede salire sul palco in duplice ruolo perché quello di presentatore e poi di performer, ma semplicemente cerco di vivermela come una bella nuova avventura. Durante la serata saranno molti personaggi chiamati a consegnare i premi ai vincitori, dal calciatore della Roma Alessandro Florenzi a Marco Carta e molti altri. Per l'evento sono state attivate particolari misure di sicurezza. Si sta preparando già da molto tempo insieme agli organizzatori, adesso abbiamo anche intensificato il nostro sforzo in termini di sicurezza con gli uffici del gabinetto della sindaca Virginia Raggi, della polizia locale e di tutte le forze dell'ordine. Tra le novità di quest'anno c'è anche la Social Squad, una squadra di star del web che commenterà l'evento sui propri profili social.